Questa definitiva sconfitta della morte era attesa al ritorno di Gesù. Ebbene, la verità di Gesù è veramente ritornata in me, al punto che io sono in grado di sconfiggere la morte con la verità, non eliminando questo fenomeno che è un necessario termine ad una vita affinché essa da un lato abbia una determinazione definita e consenta, nell'aspetto uguale e al contrario, ad avere una vita assolutamente infinita e indeterminata. Come faccio a togliervi la paura della morte? In base al terzo principio fondamentale della legge dinamica, che afferma che ogni azione in natura è sempre una coppia formata tra una azione e una azione perfettamente uguale e contraria. Ora, se noi vediamo l'azione del nostro avanzamento nel tempo dell'universo e vediamo correre qui la corrente elettrica e spostarsi le masse materiali, questa è, poiché la vediamo, solo una azione relativa ad una opposta che non la vediamo e che è perfettamente uguale e contraria. Come questa è vista andare verso il futuro fino al completamento della vita con la morte, quella comincia da quel punto della morte e in una reale resurrezione già in corso, che esiste già ora, il nostro spirito da quel punto definitivo della morte è ritornato indietro nel tempo fino al nostro attuale punto di presente e poi ritornerà nuovamente alla morte, ma attraverso il fenomeno esattamente inverso che non si presenta magnetico ma elettrico, che non si presenta antimateriale ma materiale. Di conseguenza, la vita che noi vediamo per metà sta andando a morire, ma questo è solo l'effetto relativo al lato opposto, che è un'azione vera e fondamentale, la quale dalla morte ha risuscitato lo spirito e lo ha retrocesso fino al nostro punto di presente. Per cui per metà stiamo andando a morire, perché per un'altra metà siamo già risuscitati e la nostra vita intera va dalla metà in un verso che ci porta alla morte alla metà che dalla morte ci riporta indietro verso questo presente. Quello dei due versi che è vero è quello della resurrezione, per cui noi siamo già risorti con il nostro spirito, abbiamo già superato il punto della morte, che non è un punto estremo, è un punto definito come uno specchio che ribalta perfettamente una dinamica in quella perfettamente opposta. E allora, visto che noi ora, in questo punto di presente, abbiamo già sorpassato la morte con il nostro spirito, il nostro spirito risorto è tornato finora, non possiamo aver paura di una morte che abbiamo già superato. Se, a mano a mano che avanziamo con l'elettricità e con la materia, ci avviciniamo al punto della morte, quando saremo al punto limite della morte, accadrà che il nostro io, dopo tutta la vita vista, in termini di materia e di elettricità, comincerà a vedere il lato opposto, secondo il magnetismo e secondo l'antimateria, e vedrà il tempo tornare indietro. Noi assisteremo realmente alla retrocessione del tempo. Saremo sbalorditi vedendo che ogni situazione evolve in quella precedente, sempre più precedente, fino a portarsi al momento iniziale della nostra vita e poi nel momento iniziale di quella dei genitori, dei nonni, dei bisnonni, recuperando tutto il percorso fino a rientrare ciascuno di noi in quell'unico Adamo in cui, a livello di vita umana, tutto è impotenza. Anche Eva, per questo è fondamentale, nella Bibbia, che la coppia discenda da uno solo, perché in questo uno ci possa essere, come un tutt'uno, ogni sviluppo di tutta la vita futura presente in pura potenza. Ecco, io ho vinto la morte. Non potete aver paura della morte perché di fatto noi abbiamo già vissuto quell'esperienza con il nostro spirito, ma ne siamo già venuti indietro, solo che noi non possiamo vedere questo verso, perché è quella cosa su cui ci basiamo, perché noi vediamo solo in modo relativo a quella cosa. Quella cosa non la vediamo. Il nostro modo di vedere relativo a quella cosa è di vederla nella dinamica uguale e contraria condotta dalla oggettività, diciamo così, uguale e contraria. Quindi ho compiuto quello che mi ero ripromesso, di togliervi la paura della morte, se la vostra intelligenza è in grado di ragionare in maniera personale, autorevole su queste cose, senza la necessità che voi crediate a queste cose solo se ci credono altri, i sapienti, non dimostrandovi capaci di concludere una risultanza sulla base delle leggi. Se le leggi esistono e sono esatte, ed è esatto il principio di azione e reazione, tutto quello che io dico è assolutamente vero.